Fumata nera per la questione Benetton a Ravenna. I due incontri che avrebbero dovuto chiarire la posizione dei dipendenti dell'ormai ex punto vendita di Via Cavour e del negozio dell'ESP prossimo alla chiusura il 31 agosto, se non cambia la situazione, non hanno ancora diradato la nebbia sul futuro dei lavoratori. Dapprima è stata la stessa società mosaico, titolare di entrambi i negozi, ad incontrare direttamente la casa madre Benetton per intavolare una trattativa, cercare un accordo in merito alla posizione debitoria verso la compagnia di Treviso. In secondo luogo sono stati direttamente i sindacati, spinti dall'interesse del marchio di abbigliamento di mantenere comunque aperto uno dei due punti vendita sulla piazza di Ravenna, presumibilmente quello dell'ESP, ad incontrare la dirigenza Veneta nella speranza che magari qualche altro imprenditore nel frattempo si fosse fatto avanti per rilevare uno o ad entrambi i negozi. Ma qualsiasi passo in avanti nel tentativo di salvataggio dei dipendenti è stato rimandato al 22 agosto, una settimana prima quindi rispetto alla chiusura del negozio dell'ESP. Attualmente permane l'interesse di Benetton per mantenere aperto il negozio, anche se la stessa casa madre ha confessato le enormi difficoltà a cui andrebbe incontro nel proseguire questa iniziativa, visto il delicato periodo economico di questo 2014 e attualmente rimangono ancora tutti assunti i lavoratori, tutti trasferiti dalla società mosaico all'ESP, fra monte ore di ferie arretrate ancora da consumare e turni estivi.